Lori del Santo ha varcato la Porta Rossa ed è diventata un'inquilina del grande fratello Vip. Ma prima di entrare nella famosa casa, l'attrice ha vissuto un grave lutto, la morte di suo figlio Loren di sole 19 anni. Lori del Santo già nel 1986, aveva perso il figlio Connor, avuto dal famoso chitarrista Eric Clapton, cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo. Ma oggi l'attrice e regista ha voluto condividere una parte del suo dolore per la scomparsa del figlio Loren con gli altri inquilini della casa. La del Santo racconta che il figlio era nato prematuro, di soli sei mesi. I medici mi avevano detto che avrebbe potuto avere dei problemi, ma lui era intelligente, aveva un fisico perfetto, e mai neanche un cerotto a un dito. Mai un male da qualche parte. Era un ragazzo molto profondo e introverso. Non mi dava mai problemi, ma solo soddisfazioni. A 19 anni, Loren non era mai uscito di casa la sera. Poi l'attrice parla della malattia del ragazzo. Aveva l'anedonia. È una patologia che ti priva dalla possibilità di provare piacere, simile ma più brutta dell'apatia. Oggi, io sono qui per mandare un messaggio ai genitori che hanno vissuto il mio stesso dramma, reagendo. Ed in effetti, per una persona che ha vissuto un dolore così grande, non sarà facile ma potrebbe avere un effetto terapeutico parlarne, e cercare di reagire. Perché è inutile, autodistruggersi nella solitudine. Grazie. 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 Grazie per la visione!